Che ce li toglie Minchia, è solo Zodiacs, porca montana Ah, il citerone! Zodiacs è il citerone, dici? Eh, l'ha detto lui che usava il wallhack Ah, veramente? Addirittura? Eh sì, ieri Proprio così Cioè, come cazzo? Ragazzi da sui Cioè, così, tipo, sì, uso wallhack O l'ha detto per fare... Portate a termine questo incarico, 6-4 Ragazze gruppo INEA Riporti flotta Remnant in arrivo Allora, questo qua, vedi, l'ha detto Beh, per essere un citerone è morto come... Te! Te al gruppo di ragazzi Ma non muore, diabarco! Ma non muore, diabarco! Vabbè... White Wolf, un immortale Oddio, Gepziu! Ah, porca... Miseria... Sto allogando Sto allogando Guardalo! Questa è tosta partita, ragazzi, è tosta, eh Vettore A libero dalla flotta Remnant! Sto allogando Ah, porca puttana... Ma porca troia C'è il resto... Vabbè... Ormai... Stare lì camperati aspettare No, il Zodiacs è impossibile Non so come cazzo va male Non riesco a uccidere nessuno, figa Mi avvicino a qualcuno, comincio a laggare Vediamo le vecchie bagnere noi Amore, porca miseria Seguitela ed eliminatela Dove cazzo sono? Allucinante! 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 L. sehr Non Questi voltai, lo sono, questi figli di puttana... Preparati a Titanfall! No, ma perché non mai? Eh Dio, ca... Solo io riesco a fare... cadere il timer in un punto praticamente sbagliato Vai, vai, fallo, fallo! Non resisto quando vuoi Oh! Gli ho dato il pugno, non è morto! Ok, non l'ha preso... Vabbè, anch'io deficiente Vittorio A libero dalla flotta Remnant! 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 ma questa trollati a smog a trollate che prima ha detto una roba che non mi è piaciuta per lui è finocchio del midollo perché prima non ha parlato questo ma è un culo perché prima non ha parlato adesso che c'è già Zodiacs parla è un culo questo bravo bravo questo è un figlio di puttana Zodiacs c bravo b bravo 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 ottimo no c'è un zodia, è bastardo zodiax è fortissimo, ebbe schibili pure che citterone, quindi figurati va lì corpo a corpo, vaffanculo, tutti gli ammazzi che vengono qua ma perchè se è una cosa che cosa è un pazzo dai smoka vieni smoka dove sei dai era lì camprata che mi stava aspettando ma è un pezzo di me, è un coglione, un coglione invisibile torretta piazzata prima è stato zitto e perso si si ma l'ho, ma l'ho più alto prima quello trollalo quando lo ammazzi perchè è un coglione ho appena visto che c'era zodiax ha fatto lo sborone, capito? che gente di di merda guarda non 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 è uno sopra cazzo c'è oh mi vedi sono qua qua dove ero prima non mi sono mai mosso madonna questo ma porca puttana questo ma porca puttana questo madonna mia questo ma come cazzo fa con lo spitfire tipo un colpo secco madonna non ci credo non ci credo non ci credo ma rompere il coglione di cazzo l'ho preso in testa l'ho preso c'è con lo spitfire tipo che fosse un crabber io sono morto ma ragazzi stranezze stranezze vittoria al libero dalla flotta remnante occultamento non c'è quanti giochi che abbiamo mentre giù stiamo vincendo ce la facciamo non c'è allora quello lì l'ha lanciato a cazzo quello lì l'ha lanciato a cazzo guarda pronto chiamolo cuore preparati a Ditanborn una taglia in avvicinamento inseguitela ed eliminatela non c'è lol è rotto cazzo lol è rotto cazzo 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 pilla pilla cazzo pilla co ma pilla c'è pilla cazzo pilla pilla Devono scappare Ah 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 Beh si potrebbe pigliarlo per il culo Per dire oh guarda che il tuo gruppo si chiama latte Ancora parli Smogla stai zitto stai che l'hai prese Avete letto cosa gli ho scritto all'ultimo? No non ho letto cazzo Siccome lui all'inizio ha detto Ah i dead girl le ragazze dead Capito? Poi alla fine gli ho scritto Smogla Le dead girl hanno scopato te Tua mamma e tua sorella gli ho detto Questa qua è bruttissima Così gli ho scritto Ha spiked you, your mother and your sister Ho fatto bene Ha smogla A questo non lo capo proprio perché non lo so se è forte se è cheater Ancora lui ha scritto Zodiac è l'italiano Non lo capo proprio a Zodiac GetoCarly Zodiac è forte non lo so se è tracito o bravo Ancora lui c'è Eh Zodiac è un figlio di puttana ragazzi Potente ovvio Ah è cambiato DG se è cambiato il fucile Ragazzi lui ha cambiato il fucile Ma chi Zodiac? Sì La volta è cambiato La volta è cambiato Non facciamo il fucile Via Il tuo titan è proprio Preparati al titan Buongiorno Già il titan ha uno Io c'ho il titan C'è uno campato inizio sopra Sì Eccola è un zodiac che l'ho ucciso Poverino Mica gioca Ci sta robendo i clax Eh sì Purtroppo quello È un grande benculo noi cerchiamo di fare un bel gioco almeno di vincere la partita perchè purtroppo questo è proprio un figlio di distanza come te pareva ho controllato fino a mezzo secondo fa non c'era nessuno e poi tam corpo a corpo vendetta vaffanculo figlio di puttana zucca taglia bersaglio in arrivo abbattila taglia bersaglio in arrivo bene madonna mia madonna mia madonna mia Sì, non è vero, non è vero. Occhio non è entrata nella base Quella è in fondo Dopo il fonte Perché c'è qualcuno camperato? Sì c'è uno con le p... Morto Allora Allora forse era l'altra No l'ho fatto fuori Ok ok No perché lo so che è difficile Ok non è morto Cazzo hanno 3 titan loro Sti figli di puttana 5 titan Secondo me Quello lì Come si dice I quadratini Che... I wallhack sono quelli Quelli sono i wallhack Perché ho visto il replay no? Sì vi sta male appena Hai danno a terra C'è la mia cosa no? Quella che voli C'è a fatica Sì 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 Lui così Ma questo che è sempre Zodiacs no? Sì sì Zodiac Non lo so Anche prima Anche prima che ero letteralmente invisibile No Cioè non stavo neanche volando Così con le granate Ti fa kill allucinanti Prima mi ha fatto una kill con lo speedfire Che sembrava un crudder Che ha fatto PAM In testa Con lo speedfire Anno scope Attenzione A quel punto dico Boh Non so Che mosse Attenzione Pilota nemico all'attacco Eh Molto vecchio Zodiacs Settore A Libero dalla flotta Remnant Questo c'ha Un nemico era Ok Sto solo moreno In questa partita Bravi Bravo E tocarli E tocarli No Cazzo Pugno a pugno Vincere lui Questa è una mega Occisione Sai io I nemici non li vedo In questa partita Il nemico ha riscattato la taglia Addirittura il nemico L'ha riscattato la taglia Boh Grazie a me Pss Scia Scia Eeeh Perché ho preso St'arma Questa cosa Questa cosa L'arma di Just Zodiacs Non vincere Non vincere Fatteli fuori Sei quattro Ma Ma Mi Chia Oh Come tre contro uno Oh Rapporti Flotarenda In arrivo Ok Si Ma Mi M Mi Si Oh no! 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 Grazie. Oh, ma spara quel cazzo di missili! Cioè, era lì a fin di vita, non gli ha spratto un cazzo di missili, ma che cazzo è? Affingolo. Succhiate il cazzo. Coglioni di merda. Sfigarvi. Oh, Zodiacs ha quitato. Che peccato, guarda. Cioè, sta gente verde se le prende a male. Sono forti e poi non possono perdere. Che quitano. Ti bruciate. Cosa ha scritto? Aspetta, mi sembra tipo un team, un clan che fa ridere perché... Perché usiamo i ton e i car.